Svizzera Mi aspetto una Svizzera che faccia un bel gioco, è appassionante da vedere. Una Svizzera vincente. È una nazionale che abbia delle importanti risposte per gli europei, per dare un europeo con speranza. Vincerà la Svizzera. Il mio giocatore preferito è Lichtsteiner. Shakiri, perché è molto credoso e mi piace come gioca. Berami, perché sa fare il gruppo. Lichtsteiner, perché porta l'orgoglio ed è uno della vecchia guarda degli svizzeri. Lichtsteiner, perché si vede che ci tiene alla nazione. Cominciamo ad arrivare agli ottavi, dopo vediamo. Non faccio previsioni. Almeno i quali. La semifinale sarebbe bellissima. Sarebbe un sogno le semifinali, magari. Speriamo in finale. La squadra per noi rappresenta la nazione, quindi la sentiamo molto. È la mia squadra del cuore, la mia Svizzera, insomma. È l'identità del nostro paese. Rappresenta la coesione svizzera. La nazionale è bella, si segue sempre. Per una volta che è in Ticino, non dal divano, ma dallo stadio. Al campo di calcio. Da divano, però molto... È una di quelle che si fa sentire anche nelle case vicino. Visto che sono qua, diciamo da stadio, ma di solito da divano. Brava Svizzera, è stata molto bella, interessante. È stata magnifica, fantastica. Grazie a queste bellissime cose qua, sono divertite di brutto. Pronostico per la vincitrice? La Moldavia. No, let's go. Io spero che superino il girone, poi vediamo. La Svizzera, impossibile un altro. Sono troppo bravi, troppo belli. È stata una partita tranquilla, una bella scampata prima degli europei per portarci a una cavalcata vincente in Francia, sicuramente. Grazie a tutti.